Un pane diciamo speciale che viene fatto in occasione delle feste. L'ubriacatura, chiamiamola così, è una recente, se vogliamo, introduzione in questa schiaccia, risale alla seconda metà dell'Ottocento. La schiaccia briaca, così qual è, viene identificata all'Elba la schiaccia briaca, quella con l'Alkermes di Rio Marina, ma ce ne sono due versioni. Quella di Rio Marina, che tutti considerano un po' il dolce tipico dell'Isola d'Elba, perché forse è quello più diffuso, perché è stato commercializzato per primo. Mentre a Capoliveri è bianca perché non viene utilizzato l'Alkermes, ma viene utilizzato il moscato, quindi il suo colore è più chiaro. Non esiste una ricetta classica che identifica la schiaccia briaca, presso a poco. Difatti la competizione durante le feste è quella di andare ad assaggiare nelle diverse famiglie e poi trarne un giudizio. Io non ho trovato delle testimonianze che vanno oltre scritte, anche perché molte di queste ricette venivano tramandate oralmente e molte volte ognuno era geloso della propria ricetta.